ciao a tutti in questo nuovo video da quanto tempo e che bella giornata di sole che bel pomeriggio che bella giornata e quando è bello adesso andiamo a accogliere un po di legna perché siccome di solito non ce ne stanno più per far venire la legna perché sì è una bella giornata però fa ancora freddo e stima marzo marzo è pazzo dicono dicono sta per finire però stanno andate due e uno pazzo anche qui vi ricordate se avete visto l'altro video la fontana martembo quando piove qui tutta l'acqua adesso ha smesso perché ha smesso anche di piovere non ne c'è più eccolo guarda quanto è bello ora viene vedi guarda quanto è bello un piccolino guarda quanto è bello eccolo anche tu ci vieni aiutare qui non un governo che non va niente che non fa un governo un governo non ne fa niente non va c'è volta uno scritto fratrò c'è volta e noi buttiamo 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 la prossima volta non viene buttato bene ecco mio padre che sta prendendo la legna acqua fresco fa un po' freschetto al sole si sta bene perché di solito non ne stanno come ho detto prima oi telecom un messaggio per te oi stupare che avete messo qua non è troppo che chiude a te la dà che schifo è una stupare oi stanno i testimoni eh 309 iscritti che sono testimoni stiamo un po' fuendo la campagna ciao 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 Grazie a tutti. Ecco i nostri aiutanti, Muna, la nostra aiutante, e quanto è bella, Zeno, i nostri aiutanti. Qua c'è fatica, non un governo che ci ravi i meni, qua c'è fatica, ci imbruttiamo i meni qua. In rontananza c'è un intruso, ecco una tigre bianca. Abicoli, abicoli, abicoli. 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 bene noi abbiamo quasi finito se tutto va bene questa settimana o sabato domenica faremo un video con il metadetector una zona interessante che hanno trovato in passato una bomba se tutto va bene lo faremo bene al prossimo video buona giornata a tutti arrivederci presidente della repubblica italiana facci vedere che aiuti la gente per come fa freddo anche io portoci un camionetri che non nemozzolto